Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di questa bestia qui, lui si chiama Pavlo Nakoneshny. Lui è un powerlifter strongman ucraino, molto giovane, mi pare che abbia 26, 24 anni attualmente. Queste qua sono le sue migliori alzate in gara, attenzione da non confondere con alzate in una palestra locale. Squat a 410 kg, panca piana a 270 kg, stacco da terra a 390 kg per un totale di una tonnellata e 70 kg. Ultimamente lui in una palestra ha staccato la bellezza di 445 kg per due ripetizioni. Il suo obiettivo è quello di rompere il record attuale di 501 kg che è stato firmato da After Beyondsorn. Allora, molti si chiederanno cosa sta sniffando in questo momento. I powerlifter, i strongman, prima di un'alzata molto importante, tendono sempre a sniffare i sali di ammoniaca. E dato che questi ultimi hanno un forte odore, esaltano la componente eccitatoria del sistema nervoso. Un ragazzo estremamente forte, grosso e giovane. Guardiamo questo altro video. Allora, lui è alto 1,93 kg e pesa 175-180 kg. Quindi, si allena da quando ha 14 anni e un anno dopo, un anno dopo aver iniziato i suoi allenamenti, ha spancato i suoi primi 100 kg. Rendetevi conto di quanto si è portato geneticamente questo ragazzo per alzare la chisa. Quindi 100 kg dopo il primo anno, tantissima roba. Questa è la sua dieta, lui mangia tantissimi ciocchi da vena, come possiamo vedere. Non so quanti grammi sono quelli. Poi, ecco, frulla il pollo con degli spinaci e se li beve, sì. Io non potrei fare una cosa del genere. Qua assume biciata, come ha detto il tizio nel video. E guardate come gli butta giù, prende direttamente la tannica d'acqua. Lui si allena 4-5 volte a settimana e lui utilizza una tecnica che anche Coleman utilizzava. Come avete visto, usa quel disco lì, ragazzi, pesa la bellezza di 50 kg. Quindi, per affrontare un'alzata molto importante, molto pesante, utilizza questi dischi estremamente grossi. che psicologicamente dice questa cosa, lo aiuta. Mi giusto, retadress! Ecco! Ha la voce tipo di un cattivo umano, mi fa pensare a Yujiro per gli appassionati di buggy. Andrei, tu che non ho non vedo? Pustai. L'esco! solo mentre la sua voce ha più testesserone di quando avevo 16 anni lui dice che la cosa più importante è il suo recupero e qui vedrete una tecnica che lui utilizza sempre dopo i suoi allenamenti questa tecnica si chiama warm and cold quindi prima caldo e freddo uscito dalla sauna si immerge in acqua gelida per tre minuti e in seguito si va a versare 20 litri d'acqua fredda addosso sì, si ne senti per poi tornare nuovamente in sauna e farsi versare altra acqua gelida e per terminare la giornata ragazzi lui mangia un grande grosso pasto tradizionale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo prodigio nello strongman e powerlifting spero che l'episodio di oggi ragazzi vi sia piaciuto se è il caso lasciate un like è sempre molto 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 apprezzato vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanella e noi come al solito ragazzi ci vediamo al prossimo episodio vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti ciao ragazzi